Grazie Presidente. Il 28 giugno scorso il Presidente della Commissione Europea, insieme ai leader dei paesi del Mercosur, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo politico sul libero scambio. Il 1 luglio 2019 la Commissione ha reso noto i risultati dell'ultimo e definitivo round negoziale, del quale si evincono la liberalizzazione dell'importazione dei seguenti prodotti. Carne bovina 99.000 tonnellate, pollame 180.000 tonnellate, carni suine 25.000 tonnellate, zucchero l'eliminazione del dazio contingentale su 180.000 tonnellate, etanolo 450.000 tonnellate, 60.000 tonnellate di riso, 45.000 di miele e 30.000 tonnellate di formaggio esente dazio. L'accordo crea un mercato effettivamente di oltre 780 milioni di consumatori, però lo scambio commerciale favorisce i settori europei dell'industria, in particolare l'automotive, la chimica e la farmaceutica. E in cambio permetterebbe l'accesso di prodotti agricoli sudamericani, in particolare carne e zucchero. Mi preme però ricordare che gli accordi non solo devono tutelare le produzioni agricole europee e italiane, ma devono anche salvaguardare la salute dei consumatori. A tal proposito voglio ricordare lo scandalo della carne fraca. Infatti il manzo e il pollame provenienti da uno di questi paesi del Sud America si sono classificati per i casi di contaminazioni tra i primi dieci cibi più pericolosi per il numero di allarmi alimentari scattati in Italia nel 2018. Inoltre, sempre nello stesso paese, dall'inizio dell'anno, sono stati approvati ulteriori 211 pesticidi, di cui molti vietati in Europa e moltissimi vietati in Italia. Il documento sull'accordo commerciale non garantisce e non dà sufficiente tutela per il nostro paese, ma è un accordo dal quale non trarremo nessun beneficio. Il settore agricolo non deve essere una merce di scambio. Dobbiamo seguire tre regole fondamentali se vogliamo fare degli accordi internazionali e mondiali seri. La prima è la tutela della parità delle condizioni. La seconda è l'efficacia dei controlli e la reciprocità delle norme. Noi siamo assolutamente contrari a questo tipo di accordo e lo diciamo da questi banchi con energie e vigore. Prima i prodotti italiani, sempre.